Il ciclone Foggia si abbatte sul Lanciano e resta in corsa per i play-off a due turni dalla fine. I pugliesi sono andati in gol due volte in cinque minuti nel primo tempo. Ha aperto le marcature Mancino, poi la squadra di Novelli ha messo al sicuro il risultato, raddoppiando con Germinale. Il primo tempo è scivolato via senza altre emozioni. Nella ripresa il Foggia ha pensato a controllare la gara, ha giocato su ritmi blandi senza forzare ed è arrivato al terzo gol, confezionato da Zanetti. Sul 3-0 il Lanciano ha avuto una impennata di orgoglio e con Amenta ha segnato all'ottantesiesimo il gol della bandiera. Ma non è finita, perché il Foggia ha ripreso a macinar gioco e nei minuti di recupero, ancora con Germinale, autore di una doppietta, ha messo a segno il 4-1 definitivo. Ora, per i pugliesi, c'è la necessità di vincere le prossime due partite e cercare di salire sul treno dei play-off e sperare in un passo falso delle squadre che li precedono in classifica.